It's hard to breathe, but that's alright Ciao ragazzi, oggi voglio parlarvi di un argomento che tocca un po' tutti quanti Quando perdiamo una persona cara, stiamo male, soffriamo E ci chiediamo sempre, in questo momento, dove possa essere Ma se questa persona morisse e tornasse indietro e vi raccontasse che nel momento che era morto Aveva incontrato tutti gli altri suoi parenti morti da un sacco di tempo Voi ci credereste? O pensereste che sono stato frutto della sua immaginazione o un'allucinazione creata dalla sua mente? Questa esperienza viene chiamata NDE La NDE è una situazione in cui la persona è in pericolo di vita o clinicamente morta Per alcuni minuti ricordano una serie di impressioni vissute in quel particolare stato di coscienza Quasi tutte le persone che hanno vissuto questa esperienza Dicono di provare una sensazione molto piacevole Dicono anche di aver visto un tunnel di luce e di incontrare i cari defunti Chi vive un NDE ha la viva impressione di essersi liberato del proprio corpo come se fosse un vecchio cappotto Secondo un scienziato olandese Anche nel caso di persone con malattie come la demenza e l'alzheimer Dove la persona viene di fatto molto alterata o cancellata Possono verificarsi questo tipo di fenomeno Secondo questo scienziato La coscienza è non locale Il che significa che è ovunque e sempre Secondo la maggior parte di alcuni uomini e di alcune donne Che hanno avuto un NDE La morte non è altro che l'inizio di un diverso modo di vivere Con una coscienza aumentata e più ampia Coscienza che è dovunque contemporaneamente perché non è più legata al corpo Anche i non vedenti hanno esperienze NDE In base ad alcuni studi risulta che i loro racconti risultano analoghi a quelli dei vedenti E presentano gli stessi elementi Sensazione di serenità Mancanza di dolore Senso di separazione dal proprio corpo Attraversamento di un tunnel di luce Incontri con i defunti E anche con figure spirituali Un caso di NDE Successo a un non vedente Racconta di aver subito un'operazione L'uomo ha un arresto cardiaco L'uomo muore In quello stesso momento non sente più dolore Sente la sua anima staccarsi dal proprio corpo La sua anima rimane sospesa in aria Guardando il suo corpo e i medici che cercano di salvarlo Ad un certo punto L'uomo sente una voce che gli dice di ritornare E il suo spirito si ricompone col suo corpo Dopo qualche giorno L'uomo si risveglia Vedendo il dottore Gli racconta quell'esperienza Descrivendo nei minimi particolari Tutta la scena Quando una persona ha un arresto cardiaco Dopo un paio di minuti Il cervello smette di funzionare Quindi non era normale che questa persona Non vedente Ricordasse tutto quello che gli era accaduto Anche il dottore rimase scioccato Da quello che gli raccontò quest'uomo Esperienze simili Ce ne sono tante Oltre a NDE Ci sono altri casi Diversi come le esperienze extracorporee Che sono tutte quelle esperienze Nelle quali una persona Percepisce di uscire dal proprio corpo fisico Cioè Il proiettare la propria coscienza Oltre i confini corporei L'esperienza extracorporea Può essere spontanea o indotta Ci sono alcuni Che dicono Che si può uscire dal proprio corpo Con delle tecniche di meditazione Altre invece Avvengono spontaneamente Questo capita In stati di forte stress Uso di drughe E disidratazione Alcuni hanno tentato Di avere questo tipo di esperienze Però se posso darti un consiglio Cercare di avere questo tipo di esperienze Volontariamente Potrebbe essere Secondo me A quanto pericoloso Quindi io ti sconsiglio Di provarci Tra il mondo dei morti E quello dei viventi C'è un filo sottile Questo lo sanno anche bene Gli sciamani Gli sciamani Per molte popolazioni Sono guaritori E veggenti Visionari Sono coloro che Riescono a mettersi in contatto Con il mondo degli spiriti Possono anche lasciare il proprio corpo E volare nel mondo del soprannaturale Lo sciamano Riesce ad avere Un'esperienza extracorporea Inducendola Con l'assunzione Di alcuni tipi di piante Inebrianti O alucinogene Tutti i casi Di esperienze extracorporee O NDE Portano a una trasformazione Della vita della persona Che perde Anche la paura della morte E rafforza la sua sensibilità intuitiva Molte civiltà antiche Come gli egiziani Credevano Nella immortalità dell'anima Infatti Gli egiziani Furono i primi A sostenere che l'anima È immortale E che trasmigra Gli egiziani Credevano che l'uomo Nasce con due anime Il Ba E il Ka Il Ba Era destinato Ad effettuare Il viaggio Verso l'aldilà Dove riceveva Il premio O la punizione Che gli spettava Il Ka Era destinato A rimanere con il corpo E a custodirlo Nella tomba Finché duravano I viveri Per questo motivo Mumificavano I corpi dei faraoni Per permettere Al morto Di conservare Per lungo tempo Il corpo Nella vita Dell'aldilà Nella tomba Nella tomba Del defunto Mettevano Cibo Vestiti Oro Ed un cofanetto Con inciso Sopra Una porta Questo permetteva Al defunto Di andare Dal mondo dei vivi A quello dei morti Ho trovato Molto interessante Anche un po' inquietante Se devo dire la verità Un esperimento Condotto Da uno scienziato Uno scienziato russo Di nome Konstantin Kolor Forse l'avete visto Qualche volta In televisione Questo scienziato Con delle apparecchiature Speciali Avrebbe fotografato L'anima della persona Nel momento Del decesso Lo scienziato Fa questi esperimenti Da oltre 40 anni Praticamente Prende una persona Che sta sul punto Di morire E scatta questa foto Con queste apparecchiature Nel momento Del decesso C'è una trasformazione Del campo Di energia Della persona Lo scienziato Dice Che anche dopo Giorni Che la persona È deceduta La separazione Dell'anima Dal corpo È ancora in atto Anche perché Ogni caso È diverso Secondo lo scienziato Quando una persona Muore L'anima Si stacca dal corpo Ma rimarrebbe Connessa al corpo Per un certo periodo L'anima torna Perché questa connessione Col corpo È molto forte Molte volte Racconta lo scienziato Facendo questi esperimenti Ha avuto un po' di paura Perché sentiva Come se qualcuno Osservasse Quello che stava facendo Devo dirti Che anch'io Ho avuto Un'esperienza Extracorporea E posso assicurarti Che non è stata Né spontanea Né indotta Forse Nei video Più in là Ti racconterò Le mie esperienze Per il momento Preferisco Tenermela per me Non me la sento Di raccontare Quello che mi è successo Posso solo dirti Che secondo me L'anima esiste E questi fatti Lo dimostrano Il video Finisce qui E noi ci rivediamo Per un altro video Sabato prossimo Non mancare Ciao E noi ci rivediamo